Cari amici di Radio Pugginio NER, ben ritrovati, siamo ancora qui in diretta per raccontarvi e commentare l'intervista all'ospitata a Che Tempo Che Fa da parte di Fabio Fazio del segretario generale dell'ONU delle Nazioni Unite. Un intervento importantissimo anche oggi a Che Tempo Che Fa e noi vogliamo raccontarvelo in diretta perché riteniamo sia davvero interessante per tutti coloro che in questo momento non possono seguire la diretta streaming oppure non possono guardare la tv. Noi intanto attraverso il nostro racconto in diretta e il nostro commento possiamo offrirvi delle anticipazioni sostanziose e poi potrete andare a rivedere la puntata. Ma ecco ci siamo, sta introducendo l'intervista Fabio Fazio e ora dà la parola per presentarlo a Filippa e dunque iniziamo la nostra radiocronaca. Ecco la presentatrice lo introduce con queste parole. Ci colleghiamo con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I saluti al segretario generale e solo qualche secondo di pubblicità e inizia l'intervista. Bene, allora intanto ne approfitto nel frattempo per ringraziarvi perché siete sempre più numerosi come ascoltatori, spettatori del mio canale YouTube Marco Puggini e siete sempre più numerosi anche ad iscrivervi. Ho visto però dai dati che molti di voi sono spettatori appunto di ritorno ma non si sono ancora iscritti. E cosa aspettate a farlo? Per noi è importantissimo per far crescere questo canale e poter offrire contenuti sempre migliori e nello stesso tempo a voi non costa nulla. Per cui vi invito ad iscrivervi al mio canale Marco Puggini e poi c'è la mia musica, questa notte uscita nel mio piccolo inferno, il mio nuovo singolo che vi invito ad ascoltare. Ma ecco che torniamo in diretta in studio ed ecco le prime parole che rivolge Fabio Fazio al segretario generale delle Nazioni Unite. Che saluta e dice buonissima serata a tutti voi e Fabio Fazio naturalmente lo ringrazia, dice il segretario, è un grandissimo piacere essere qui. Per me è una grande occasione imperdibile, dice Fazio, la ringrazio per averci concesso il suo tempo, stiamo entrando in quella che lei ha definito un'era di caos globale e per questo prima di cominciare la nostra conversazione volevo proporre a lei e al pubblico televisivo alcune immagini che vorremmo vedere insieme e purtroppo stiamo vedendo delle immagini direi molto tristi che raccontano una realtà che non vorremmo fosse così. Ed ecco si torna in studio, Fabio Fazio domanda, signor segretario generale, sono solo alcune delle crisi che stiamo vivendo in questo momento? Ecco diciamo che siamo molto lontani dall'essere uniti come il nome Nazioni Unite imporrebbe. Vediamo cosa risponde. Il motivo è semplice, siamo di fronte ad una divisione drammatica geopolitica, i grandi poteri di questo mondo sono gli uni contro gli altri. Quando ho iniziato la mia attività politica c'era un mondo bipolaristico, il blocco sovietico e il blocco occidentale. Certo c'erano delle discussioni, dei conflitti tramite terzi, però c'erano delle luci, le cose erano prevedibili e poi c'erano modi in cui le due superpotenze comunicavano e quindi erano in grado di ridurre gli armamenti, cercare di controllare gli armamenti e noi sapevamo che in modo pur diviso c'erano delle regole che venivano rispettate. Poi c'è stata la supremazia quando ero primo ministro degli americani. La cosa importante era convincere il presidente degli Stati Uniti che un intervento fosse necessario per evitare un massacro. Quando si convince il presidente degli Stati Uniti d'America tutti erano d'accordo, l'Indonesia ha accettato l'intervento, il problema di Timor fu risolto. Si immagina se questa cosa accadesse oggi sarebbe la stessa cosa? Io sono assolutamente certo che non accadrebbe assolutamente nulla di simile. Allora la cosa a cui ci troviamo di fronte è che sempre più ci siamo spostati da questo mondo unipolare ad un mondo che non è ancora multipolare. Anche se ci sono naturalmente delle potenze che emergono, però non è multipolare, è essenzialmente caotico perché non c'è un rispetto. C'è un'infinità completa perché le superpotenze non si parlano in modo efficace e non riescono a pervenire su un accordo sulle problematiche chiave che sono fondamentali per questo mondo. Ebbene ogni paese in ogni luogo del mondo sembra poter fare quello che voglia, fare le cose che vogliono con impunità totale. E se guarda quello che succede per esempio con il conflitto ucraino o nel Medio Oriente, quello che per esempio è accaduto in Africa, in Myanmar e in altri luoghi, insomma c'è sempre questa sensazione di impunità e la cosa drammatica è che noi dobbiamo tenere in considerazione i valori della nostra Carta delle Nazioni Unite, il diritto nazionale, il diritto territoriale e internazionale. Questi valori sono sempre stati messi sotto accusa e non abbiamo più un'assistenza a livello governativo. Le nostre istituzioni, ivi compreso il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti in America, vengono messe in dubbio come altre forme, altri tipi di governance che erano state create nella Seconda Guerra Mondiale ma che non sono in grado naturalmente di rispondere alle sfide odierne perché non sono più rappresentative e neanche efficaci. In questo senso domanda Fabio Fazio, lei mi ha parlato più volte di questa necessità, come andrebbe riformata l'ONU secondo lei? Risponde Guterret, c'è un po' di ritardo nella risposta per via del collegamento naturalmente. Dice Guterret, in preparazione per il summit futuro ci sono delle proposte molto importanti, però io devo dire proprio dei sistemi multilaterali in generale. Guardate il Consiglio di Sicurezza, non c'è un singolo Stato africano come membro permanente del Consiglio di Sicurezza. La composizione deve essere ripensata, anche se per esempio il potere di veto sarà impossibile da toccare visto i problemi di fronte ai quali ci troviamo, però non ho assolutamente illusioni da questo punto di vista. Sarà probabilmente impossibile togliere il diritto di veto, però una composizione più ampia potrebbe essere più rappresentativa del mondo. Sono molto belle le parole che sta dicendo in questo momento in diretta, vi stiamo raccontando Guterret. Continua la stessa cosa per il sistema finanziario, la banca mondiale. Dovrebbero essere più rappresentativi i paesi in via di sviluppo, devono avere una voce più forte. Non ci sono per esempio i paesi africani, non sono rappresentati per esempio. D'altro canto abbiamo bisogno, dice Guterret, di adattare il nostro modo di operare con le nuove tecnologie. Adesso c'è l'intelligenza artificiale e qui provoca ancora dei cambiamenti nell'ambito delle relazioni internazionali. Dobbiamo adattare le nostre istituzioni per essere in grado di davvero combattere la disinformazione per non perdere la nostra umanità. Siamo di fronte al rischio degli armamenti autonomi dove un'arma può per esempio uccidere un certo obiettivo. Bisogna conservare una serie di valori e non possiamo armare lo spazio. Ci sono tutta una serie di rischi che hanno bisogno che le istituzioni internazionali come le Nazioni Unite ma anche altre multilaterali possano trasformarsi, modernizzarsi e diventare decisamente più corresponsabili ed anche in linea con l'attualità. Insomma vuole dire che gli stati membri devono capire che è vitale per tutti accettare questo bisogno di cambiamento. Ma domanda Fabio Fazio, quella che sembra essere una volontà autodistruttiva. Siamo di fronte a crisi epocali, penso a quella climatica per esempio, dove non si riesce a trovare un accordo nemmeno su una questione che riguarda la sopravvivenza della specie. È una novità assoluta nel senso che, dice Fazio, siamo di fronte a qualcosa di mai visto. Abbiamo sempre pensato che la storia progredisse, noi qui siamo di fronte invece a qualcosa di inedito. Un po' quello che dicevo io l'altro giorno a un mio amico. Noi siamo cresciuti con l'idea che certe cose fossero superate, ci fosse una volontà davvero di cambiamento, ci fosse una rivoluzione in atto nel mondo. Invece ci ritroviamo e vediamo a distanza di anni che le cose sembrano regredite rispetto a quel punto di vista che avevamo noi quando eravamo piccoli. Ma vediamo cosa risponde Guterre a questa domanda su questa volontà autodistruttiva che abbiamo noi qui in questo momento e domanda Fazio e risponde Guterre. Sto aspettando perché c'è ritardo nella risposta sempre per il collegamento. Dice Guterre il cambiamento climatico è davvero il problema del nostro tempo e direi che è l'aspetto più importante del mio lavoro di quello che cerco di fare. Noi siamo attivisti da questo punto di vista. Di fatto si dice che le Nazioni Unite non hanno potere, non hanno denaro, ma abbiamo una voce, una voce che si alza molto e molto chiaramente per mobilitare il sistema perché i nostri Stati membri capiscano che devono assolutamente intervenire a un compromesso serio. È stato fatto un po' di progresso, però siamo chiari su questo. Non c'è assolutamente modo per ridurre le emissioni e ridurre le emissioni alla velocità necessaria per mantenere questo limite di 1,5 gradi se non accettiamo che è assolutamente essenziale smettere di usare i combustibili fossili, però gradualmente non semplicemente dice Guterre una diminuzione, ci vuole una diminuzione progressiva di essere fatta regolarmente. Dobbiamo adattare i nostri sistemi produttivi ad una decarbonizzazione seria. Questo bisogna fare in modo che ci siano pressioni anche fiscali sull'inquinamento, riorientare per esempio il sistema finanziario internazionale per sostenere i paesi in via di sviluppo permettendo di valorizzare le loro economie. Abbastanza paradossalmente i più grossi debitori non sono semplicemente i paesi sviluppati, ma i più grandi sono proprio le grandi economie emergenti, ma non hanno ovviamente risorse per la decarbonizzazione, quindi abbiamo bisogno di solidarietà internazionale seria per valorizzare insieme le risorse e le capacità di tutti, quindi un bel discorso inclusivo quello di Guterre. e vediamo come continua, quale domanda ha Fazio ancora per lui. Ah ecco, si sta dicendo, se ognuno di noi potrebbe comprare tranquillamente un biglietto aereo, insomma viaggiare, il mondo sarebbe completamente diverso, perché non è così per tutti, non è così facile comprare un biglietto e viaggiare, addirittura in certi paesi dell'Africa anche se hanno la possibilità di comprare un biglietto e venire in Europa o andare in America, insomma salire in Occidente, anche per loro con lo stipendio che hanno rispetto al valore dei soldi, rispetto al dollaro, rispetto all'euro, non hanno la possibilità perché dovrebbero lavorare per anni e anni per poter forse mettere da parte i soldi per un biglietto probabilmente di sola andata, ma non perdiamo nulla, regia leggermente indietro nello streaming in diretta, ok, ci siamo. La domanda di Fazio è questa, è ammissibile che non si consenta, dice Fazio praticamente, la mobilità delle persone sostanzialmente ad un intero continente. Vediamo la risposta di Guterre, che arriva come sempre in ritardo per via del collegamento, dice che la storia del mondo è stata una storia di mobilità, noi siamo il prodotto in una certa misura di questa mobilità, 100.000-200.000 anni fa le popolazioni dei luoghi dove abitiamo adesso erano completamente diverse, ci sono stati movimenti che hanno creato il mondo attuale, poi sta dicendo che molti si occupavano della madre quando stava male, stava all'ospedale nel Portogallo, il suo paese, dice però praticamente i dottori che si occupavano di una madre quando stava male in Portogallo erano stranieri, non erano portoghesi, questo perché avevamo bisogno dunque di medici stranieri e così come tante categorie ne hanno bisogno, oltre ai medici abbiamo bisogno di immigrati per poter sostenere anche il lavoro che serve in certi ambiti, per cui dice dobbiamo organizzare, investire in Africa, organizziamo l'immigrazione in quei settori dove c'è davvero motivo e senso, sta dicendo, e poi cerchiamo invece di dare una mano all'Africa perché possano stare bene, cioè praticamente non deve essere una necessità quella di venire in Europa, in America o in altri paesi al nord da parte degli africani, ma deve essere un piacere, deve essere una volontà per motivi di lavoro, insomma quindi non deve essere un obbligo perché c'è la fame o perché eccetera eccetera, o c'è la guerra, quindi aiutiamoli a casa loro in un certo senso, insomma accogliamo nello stesso tempo e lasciamo che nel mondo tutti possano insomma in un certo senso girare, andare dove gli porta il cuore e non la necessità perché nel loro paese stanno magari morendo di fame, insomma un discorso molto bello, bellissime parole stasera da parte del segretario generale dell'ONU, dice anche combattiamo i trafficanti, quei criminali che di fatto si arricchiscono e hanno fortuna con persone disperate e che vi hanno i diritti umani di base e che creano enormi problemi alle persone, agli stati, a tutti noi. Quindi Fazio fa una domanda per quanto riguarda la striscia di Gaza, conosciamo dice Fazio, conosciamo la reazione di Israele, oggi siamo a più di 30.000 morti, il segretario generale che ora cita ha detto una cosa terribile e importante, lei ha detto anche la guerra ha delle regole, quali sono queste regole? Domanda Fazio al segretario generale dell'ONU che risponde in questo momento ci sono delle convenzioni, c'è il diritto internazionale, c'è la protezione dei civili, ci sono le leggi per dire della guerra, io credo sia importante in una situazione come questa essere chiari, quello che ha fatto Hamas è un attacco terroristico completamente inaccettabile ed è una disgrazia terribile, inconcepibile in un mondo come il nostro. Dobbiamo essere chiari e fermi su questo, d'altro canto non c'è assolutamente posto per gli ostaggi nel senso che gli ostaggi devono essere rilasciati senza condizioni immediatamente perché gli ostaggi non fanno parte del nostro mondo, dobbiamo essere fermi anche su questo, dipende dai negoziati naturalmente, però questo è un principio, gli ostaggi devono essere rilasciati senza condizioni immediatamente, la verità è che reagire a questo attacco barbaro che cosa ha provocato? Le operazioni militari da parte di Israele, lo si può fare in molti modi però queste operazioni militari sono state lanciate in un modo dove il prezzo per i civili è stato drammatico. Allora prendiamo l'Ucraina, la guerra in Ucraina è una guerra nell'ambito della quale due eserciti più moderni sono l'uno contro l'altro, usano come potenziale le armi più moderne e di fatto questa guerra dura da più di due anni ormai e allora in Ucraina, dice Guterres, meno di metà dei civili che sono morti a Gaza sono morti in due anni. Il modo in cui è stata condotta la guerra a Gaza è che i civili stanno pagando il prezzo più alto e deve essere chiaro questo, Israele l'ha detto, è una guerra contro Hamas, non contro i palestinesi, ma la verità è che questa si è trasformata in una punizione collettiva contro i palestinesi, quello che vediamo oggi a Gaza, bimbi che muoiono di fame, tutte queste immagini orribili, un incredibile numero di morti, non ha nessun parallelo in nessun altro dei conflitti che mi è capitato di vedere come segretario generale. Allora basta, perché? Perché stiamo anche noi chiedendo una tregua umanitaria. Il Ramadan che dovrebbe iniziare domani appunto, il Ramadan potrebbe essere un'ottima occasione per di fatto arrivare ad un cessate il fuoco in modo che Israele accetti la tregua e Hamas potrebbe rilasciare tutti gli ostaggi immediatamente. Bene, davvero un'intervista molto importante e interessante quella a cui abbiamo assistito in diretta questa sera, l'intervista di Fabio Fazio al segretario generale dell'ONU, Guterre, a che tempo che fa? Oggi 10 marzo 2024. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi qui in diretta, aver seguito il nostro commento. Tra poco continueremo a raccontarvi che tempo che fa perché ci saranno altri due ospiti incredibili che ci faranno fare qualche risata e vogliamo commentarli insieme a voi. Sono Abba Tantuono e Panariello, per cui che insieme saranno ospiti di Fabio Fazio perché hanno partecipato a LOL 4, un programma divertentissimo che sta sempre crescendo anche come big, se vogliamo paragonarlo alla competizione di Sanremo. Ci sono sempre più big, quindi potrebbe diventare davvero un programma sempre più divertente. Vedremo come sarà. Inizierà il primo aprile, quindi sarà uno scherzo, come dirà poi Abba Tantuono. Vedremo l'intervista in diretta. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, ci ricollegheremo con voi. Intanto un po' di musica, grazie per essere stati con noi. Iscrivetevi al mio canale YouTube Marco Puggini, ascoltate la mia musica a tra pochissimo qui sul radio Puggini On Air.